Come avete accolto la notizia della sentenza del Consiglio di Stato con cui di fatto è stato stoppato il progetto dell'ampliamento di Peritole? L'abbiamo accolta come l'ennesimo passo di una vicenda infinita che ci mette in una condizione ancora più di attesa per quello che verrà. Ovviamente è una sentenza che parla dell'Avieno nel progetto di se stesso, però la cosa su cui vorrei porre l'attenzione è questa infinità nella tempistica per una decisione di un investimento, soprattutto di un investimento estero. Con questi tempi e con queste modalità ci rendiamo un paese del tutto inattrattivo per gli investimenti perché la certezza del futuro e la certezza di quello che sarà è probabilmente la condizione base perché qualcuno venga a investire in Toscana e noi non la stiamo dando come dimostra la vicenda dell'aeroporto. Perché secondo voi l'ampliamento dello scalo fiorentino è un progetto che merita di essere sostenuto? Guardi, è molto semplice perché noi crediamo che la Toscana non possa fare almeno delle infrastrutture che al momento non ha e purtroppo lo scalo fiorentino fa parte di quelle, dico purtroppo perché vedo tutta la vicenda che si sta creando intorno alla materia. Una città e una regione, perché di questo si parla, come la Toscana non può avere un aeroporto a mezzo servizio come quello di Firenze, credo anzi che dovrebbe essere potenziato e dico a tutti quelli che pensano che Firenze sia in contrapposizione con Pisa o che una cosa esclude l'altra che non è assolutamente così. Noi parliamo tanto di aumentare i collegamenti con Pisa ed è vero e giustissimo, ma non è per forza detto che ogni volta che si parla di uno l'altro venga automaticamente escluso. È importante che tutta la Toscana e tutto il sistema aeroporto reale toscano sia veramente competitivo, cosa che al momento è ma non come potrebbe essere. Il cittadino però non è preoccupato per l'impatto che un'opera del genere può avere sul territorio, alla luce anche delle decine e decine di prescrizioni che sono state avanzate. guardi onestamente no perché credo che le prescrizioni debbano essere ovviamente valutate nelle sedi competenti ed è giusto che sia così però è altrettanto vero che questo non può essere da freno allo sviluppo della regione noi parliamo di terza corsia della 11 per fare un esempio che ci tocca da vicino bene anche il traffico auto ha un impatto ambientale notevole però nessuno ne parla a me questo fa paura perché nel momento in cui l'aeroporto dovesse essere stoppato per questa ragione allora perché non tutti gli altri progetti dovrebbero essere stoppati per questa ragione tutto sta a capire che tipo di Toscana vogliamo per il futuro se vogliamo una Toscana industriale e competitiva allora nei limiti e nel rispetto di tutti dobbiamo andare avanti altrimenti continuiamo a credere a una Toscana agricola felice turistica con turisti che però atterrano da altre parti dell'Italia con tutto quello che ne consegue con tutte le perdite di posti di lavoro e con tutta la retratezza che questo comporta è un territorio che in questo momento è in una fase di cambiamento forte A questo punto come Confindustria cosa ha auspicato? Aspichiamo che questo progetto riprenda nella direzione giusta e in tempi brevi ma ci aspettiamo anche e speriamo onestamente che l'investitore argentino non cambi idea perché questo è un rischio concreto come dicevo prima se i tempi non sono certi se la certezza viene data un giorno sì e un giorno no ci sta che chi viene dall'altra parte del mondo ad investire possa dire bene non è più la mia battaglia mi dispiace i miei soldi li prodatterò in Spagna, in Francia, in un altro aeroporto dove magari avrò meno redditività perché anche Firenze è un posto molto attrattivo però avrò certezza di portare a termine l'investimento cosa che qua adesso non sto avendo